Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, venerdì 6 gennaio, buona epifania, mi raccomando, mangiatevi i dolci che vi arriveranno nella calza, ma non esagerate, mi raccomando, vi voglio in piena forma, fate i bravi. Allora, parliamo dell'aggiornamento di giovedì prossimo, su cui ci sono tanti dubbi, tante perplessità e poche certezze. Vedremo che anche l'inizio della stagione 3, dal nostro influencer di fiducia Renan Galvani, viene messo in discussione, insomma, una situazione molto strana. Prima di tutto però vi ricordo sempre che iscrivervi al canale è il modo più semplice per supportarci, ancora più semplice se già vi siete iscritti al canale mettere mi piace al video per farlo girare fra tutti i non iscritti. Poi, donazioni, abbonamenti e acquisti su Amazon, passando per i link di affiliazione presenti all'inizio della descrizione del video, sono tutti i modi con cui potete supportarci. Grazie per tutto quello che avete fatto finora, ma da oggi, se potete fare anche di più, grazie davvero per far crescere questo canale. Io sono con pochissima voce, ma sono con voi anche questa mattina per farvi questo sunto della situazione e ecco, spero che apprezzerete l'impegno, anche se veramente ho un filo di voce. E non vi preoccupate, al medico ci sono andato, perché qualcuno dice devi andare al medico. Grazie per preoccuparvi, ma non è che non ci penso. Allora, prima cosa, la stagione 2, ragazzi, giovedì prossimo, dovrebbe finire, non lo dico io, ma lo dice Konami, questa è una pagina ufficiale di Konami, 17 novembre 2022, 12 gennaio, 1.59. Quindi, uno, come dire, una persona normale direbbe che quindi dovrebbe cominciare la stagione 3, se finisce la stagione 2 non ci può essere un limbo. E invece non è così, perché il nostro caro Renan Galvani dice la stagione 2 si concluderà il prossimo 12 gennaio e la stagione 3 dovrebbe entrare o il 19 o il 26. Ma, caro Renan, e cosa facciamo noi per una o due settimane? Cioè, siamo senza stagione? Così siamo in una fase di, così, non si sa, un limbo senza stagione, senza contenuti? A me questa cosa sembra molto strana, onestamente, però, se lui lo dice, qualche ragione l'avrà. Però, ragazzi, siamo stati mai senza stagione, non mi sembra. Ci sono state, quello sì, ci sono state dei ritardi nella conclusione di una stagione. Finirà la stagione 2 il 19 o il 26? Vedremo, ragazzi. Lì c'è una data ben precisa. Renan Galvani guida che la stagione 3 inizierà il 19 o il 26. A breve, la settimana prossima, scopriremo come stanno le cose. E, sempre Renan Galvani parla del fatto che Konami, questo l'aveva scritto qualche giorno fa, ma è ancora valido, Konami, scusate, Konami non ha riusciato il contenuto della stagione 3, ho informazioni che c'è uno stadio in arrivo. Per quanto riguarda i contenuti, il minimo che possono fare porterà quanto promesso per dicembre non è arrivato. Club e Lega, crossplay, editor. Questo è quello che dice Renan Galvani. Io oramai non dico più nulla perché neanche con i tweet ufficiali si riesce a fare un'informazione criteriata su Konami. Infatti, il crossplay doveva arrivare entro fine anno, l'editor doveva arrivare entro fine anno o almeno Winter 2022. Vedremo un po' questo Winter 2022. Lo stesso si può parlare di squadre nei campionati che dovevano arrivare e che non si sono viste. Le interpretazioni più buoniste nei confronti di Konami è che sono state modificate le squadre all'interno delle squadre di esibizione quando ci sono le squadre di tutto un campionato. Non è così perché non ci sono squadre di tutti i campionati, ci sono solo le squadre partner, non c'è nessuna Lega completa nelle squadre disponibili per le esibizioni. Quindi c'è qualcosa, c'è qualquadra che non cosa, come si suol dire. Staremo un po' a vedere, speriamo che abbia ragione Renan Galvani, ma ad oggi Konami di stagione 3 non ha assolutamente parlato. Però analizzando il gioco qualche cosa possiamo dire. Questo lo possiamo dire. In primis, l'evento International Cup finisce tra 5 giorni e 18 ore, cioè praticamente giovedì. Questa non è una indiscrezione, è una mia speranza che magari qui possano essere incluse nuovi contenuti per l'offline, dopo la Coppa del Mondo, magari un campionato, magari qualcosa. Perché l'International Cup comunque ha avuto un suo appeal, sarebbe importante che Konami presentasse altri contenuti offline. Si sperano le squadre, si sperano i campionati, ma anche un evento sarebbe già qualcosa. E poi invece ci sono delle certezze pure qui. I pacchetti finiscono fra giovedì, finiscono tutti questi nazionali ed è possibile che arriveranno nuovi pacchetti di squadre per club o di ambassador o di qualcosa. Sui pacchetti non ho molti dubbi sul fatto che Konami li presenterà, perché ovviamente sui pacchetti Konami ci guadagna. Giovedì prossimo ovviamente finiscono anche gli Epic del Brasile ed è facile che tornino altri giocatori Epic dei Big Time. Questi della stagione 2 sono stati presentati tutti, quindi non sappiamo chi saranno i prossimi Epic, anche se c'erano delle indiscrezioni. Si parla di TOT e di altri del Big Time, ancora no. Speriamo che finisca questa storia delle Anchored Stars, che giovedì prossimo arrivino nuovi, davvero nuovi giocatori della settimana. Lunedì finiscono gli Epic della Spagna e non credo che arriverà nulla. Finiscono quelli dell'International Cup e finiscono le Shining Stars. Io credo, sottolineo, credo che lunedì arriverà quel pool del derby di Manchester, perché è già presente nel database, per giovedì è un pochino più in là e poi è già sabato. Io penso che lunedì avremo il pool del derby di Manchester con giocatori del City e dello United che abbiamo visto nei giorni scorsi. Giovedì finiranno anche i National Team Selection di Giappone, Italia, Turchia, Indonesia, Malaysia, Thailandia e vedremo se ci saranno cose simili. E giovedì prossimo si concluderanno anche i giocatori da prendere con contratto mirato Golden Boys e campionato Brasileo Serie A. Anche in questo caso credo che ci sarà un nuovo giocatore del mese, per così dire, di un certo tipo, non so di che genere, e poi un football festival, per esempio Golden Boys, ci sarà qualche altra cosa. La speranza mia è che ci siano giocatori davvero interessanti, perché su PlayStation ho un sacco di contratti mirati da utilizzare, mi valgono fino a febbraio. Io spero che, come arriveranno nuovi contratti mirati, ci saranno giocatori che mi interessino particolarmente. Quindi ragazzi, per il momento questo è tutto. Viviamo nel mare magnum della precarietà, dell'insicurezza, della mancanza di informazioni ufficiali da parte di Konami. Abbiamo solo la data di fine della stagione 2, quella sì, quella è ufficiale, ma dopo Renan Galvani ce la mette in discussione perché dice che la stagione 3 comincerà il 19 o il 26. Speriamo al solito che Konami faccia finalmente chiarezza, che si cominci a parlare di una versione 3.0 con tutte le cose che attendiamo. Tra l'altro, ragazzi, siamo al 6 di gennaio, un po' di inverno è già passato, il producer di football ha parlato che la Master League sarebbe arrivata in primavera e non mancherebbe poi tantissimo. Staremo 3 mesi, dai, diciamo 3 mesi come media a seconda se arrivi il 21 marzo, il 21 aprile, il 21 maggio o il 15 giugno. Staremo a vedere Konami nei suoi tweet ha parlato invece di un più generico 2023. Vedremo, vedremo, anche se oramai anche i tweet ufficiali lasciano un po' il tempo che trovano a livello di credibilità per tutto quello che è successo a fine 2022. Ragazzi, per il momento è tutto, io vi auguro ancora una buona epifania, vi auguro una buona giornata e ci aggiorniamo stasera con il campionato e domani con un nuovo video del mattino. Ancora non so dirvi cosa ci sarà, ma qualcosa, state tranquilli, ci sarà. Buona giornata, ciao!